Buongiorno a tutti, stiamo viaggiando verso il malandrone perché c'è un bellissimo evento chiamato l'Under Trophy dove una manciata di macchine prese dallo sfasciacarrozze praticamente combattono per 12 ore per riuscire ad arrivare in fondo, cioè non chi arriva prima, chi riesce ad arrivare in fondo, ne già tanti si riescono a fare quello, via, io sono carico, pronto, tutta la roba caricata, andiamo a vedere se riusciamo a riprendere qualcosa col drone, ci vediamo lì! Grazie a tutti! 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 nooo vai 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 ma sono dietro quell'articolo si è prima il seono quindi se il seono soffra il primo no vince lo stesso velo bianco però la pagare la fanno il primo ma di sotto ora c'è la pianta ora va a perdere l'ultimo giro vai grazie no 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 non ci credo sonagli sonagli ce l'hai cubata eh madonna barra è nel posto no ma vai ha più Io l'avrei fatto arrivare a Sion Ma se non l'hai uscita nel posto L'hai uscita nel posto Sei venuto all'atterraggio? No, ma è andato dalla parte esterna E con questo è finito anche questo video Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Datemi qualche consiglio su dove andare la prossima volta Se montagna, moto, esplorazione di qualche bando Niente freestyle Iscrivetevi Ci vediamo alla prossima